Più che importante è autorevole. Borussia è un grande giocatore. Mi piace moltissimo perché poi se può stare molto bene il gioco. Poi ha presente sul reale. Questa è Cristina. Ha regalato la mano dell'Olanda anche a Gino che l'ha indistrata. Gianluca, veniamo a questa Juventus. Ci sono tutte le tassate eliminate. Nelle top 56. Hai visto? Ma che compleanno è stato quello di questa sera? Compleanno migliore con... Sì, beh, certo. Avrebbe stato meglio festeggiarlo più qua, però... Ci sono 100 milioni. ...però è stato molto bello lo festeggiato ieri sera. Sì, mi suggeriva di piazza che al tuo fianco ci augurini, no? Ma prima, Massimo, com'è stata la serata con Riccardo? Diciamo che il compleanno e i festeggiamenti sono cominciati ieri sera con largo anticipo rispetto alla mezzanotte. Sì, sì, sì. Sì, sì, in base. Non ne batte più nessuno. È stata una lunga cena, un dopocena... Sì, cena, dopocena... Sì, 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 sì. E poi oggi spiaggia. Però è stato bello con amici. Ecco, ma adesso ci puoi riferire, Riccardo? No, io non sono informata. Per me rimane la Fiorentina. Vabbè, qui c'è Billy Contacurna che con Martino Colombari, che sa quante volte, sono parlato del giardino in Sudafrica. Magari... C'è il suo biglietto, si è risparmato un sacco di soldi e siamo stati lì, giusto? È giusto. Ad aspettare. Ma il caso... Come scusa? Che cos'è Martino Colombari per te? È un riferimento, è un modello? Insomma, è una ragazza che ha fatto una... Certo, da seguire naturalmente, è un modello di donna sia professionalmente che la vita di privata, insomma, da seguire, certo. Speriamo di arrivare a questo. Per me è quello che...